E' stato un testa a testa fino all'ultimo attimo, che cosa secondo lei l'ha fatta preferire a Doffidani da parte degli elettori? Guardi, innanzitutto vorrei dire che ha vinto lo straordinario popolo del centro-sinistra e delle primarie, ma è stato un testa a testa, lei lo ricordava, non saprei dire qual è, c'è stata una scelta, forse è passato il mio messaggio, che io ero il candidato comunque di tutto il centro-sinistra insieme a Renzo Fidani, il popolo del centro-sinistra ha scelto, ha scelto tra due candidati che comunque avevano condiviso e condividono lo stesso programma, c'è stato un risultato importante, quindi hanno l'ho scelto liberamente, questo sì. Credo che abbiano percepito queste candidature come candidature messe a disposizione entrambi di tutto il centro-sinistra e credo che questa sia stata la straordinaria intuizione che poi ha portato tante persone a partecipare e ad adottare il nostro progetto di governo. C'è già chi l'ha definita come l'anti di russo, si ritrova in questa definizione soprattutto che tipo di rapporti terrà con l'avversario del centro-destra? Guardi, io non sono l'anti di nessuno, non sono l'anti di nessuno perché, ripeto, io non mi occupo solitamente delle persone, io mi occupo di politica. Sono oggi, e ne sono orgoglioso e gratificato, il candidato del centro-sinistra. Il mio compito è quello di allargare insieme alle forze del centro-sinistra la coalizione il più possibile e guadagnare insieme alla coalizione il governo di questa istituzione, a prescindere di chi sarà il mio avversario, chi metterà in campo il centro-destra, la qualcosa a me è totalmente indifferente e non potrebbe essere diversamente, è un segno di rispetto anche nei confronti degli avversari che ci dovessero essere. Quali sono le sue priorità nel programma? Ma innanzitutto quella bozza di programma che noi abbiamo condiviso adesso dovrà diventare progetto di governo per questo territorio con le forze della coalizione, con una coalizione allargata e dovrà essere confrontato con questo stratenato popolo del centro-sinistra, con gli attori e i protagonisti di questo nostro territorio. Le priorità che io proporrò e che spero verranno condivise è innanzitutto quello di dare un'identità chiara e forte da subito alla nuova provincia di Fermo, perché questa venga percepita come tale e che sia in grado di dare una risposta ai grandi problemi di questo nostro territorio. Innanzitutto i problemi che riguardano il mondo del lavoro, di coloro che il lavoro lo hanno perso, di coloro che il lavoro non lo trovano, del precariato, il sostegno alle nostre imprese che faticano a misurarsi con le sfide della globalizzazione, il sostegno ai giovani, dare soprattutto speranza per il futuro e dare fiducia. Questo credo che è il messaggio che dovrà passare innanzitutto e noi ci spenderemo per questo, perché per questo vale la pena di assumere questa sfida che deve far diventare questo territorio più forte e così sarà. Sembra che in queste elezioni l'attenzione si sia concentrata più sulle persone che non sui programmi, è d'accordo? Ma non credo, questa è una competizione che riguarda la coalizione del centro-sinistra, che si è saldata intorno ad un progetto di governo per questo territorio, che è una bozza che poi dovrà essere portata dal vincitore delle primarie nel territorio per confrontarla ed elaborarla insieme a tutti i protagonisti e gli attori di questo nostro territorio. Inevitabilmente le primarie, quando il progetto è comune, si concentrano sulla scelta del candidato e questo credo che sia un fatto normale. In caso di vittoria, come si confronterà con l'Italia dei Valori? Se io supererò la prova dell'8 marzo di domenica, come credo, io mi spenderò da subito e immediatamente per stabilire con l'Italia dei Valori un percorso di coesione, in quanto quell'importante partito già ha condiviso sostanzialmente il programma e credo che troveremo le ragioni dello stare insieme per quella che sarà poi la sfida finale per guadagnare il governo della nuova istituzione. Sono sicuro di riuscire a trovare un'intesa. Come avversario, meglio basso o di ruscio? Ma guardi, io in questa fase e neanche successivamente non intendo parlare degli uomini, non ci sono avversari. Diciamo che c'è una competizione, io credo che il centro-sinistra dovrà proporsi e con me si proporrà per governare questo territorio. Per quel che mi riguarda, credo che sia del tutto indifferente chi sarà a guidare il centro-destra nella competizione finale. Io penso che noi dobbiamo guardare a noi stessi e quindi guadagnare il risultato finale confrontandoci con i nostri cittadini che devono essere i nostri interlocutori.